Ehi football, accomodate qui. Grazie. Lo sai? Non ho mai visto un detenuto entrare qua dentro ed essere subito e all'unanimità odiato dall'intera popolazione. Non l'ho mai visto. Ha un gran culo, eh? Puoi rapinare banche, puoi vendere crack, puoi scippare la pensione a tua nonna e a nessuno gliene frega niente, ma truccare una partita di football. Ehi, no, è anti-americano. Tu giochi a football? Io? No, faccio così schifo che mi mettono come riserva dei bianchi. E si incazzano pure, dicono non è possibile, c'è toccato un negro che non sa giocare. Sono che ti serve? Polkru. Qualunque cosa ti va, io te la procuro. Ti serve erba? Crack. Ehi, ti serve il proza? A disposizione. Lo so che voi bianchi combattete con la depressione. Guarda, personalmente non lo capisco perché voi bianchi siete depressi. Ehi, sei bianco, sorridi. E per qualche spicciolo ti rimedio perfino un McDonald's. Sono serio? Sì, signore, il mio amichetto Cheeseburger Eddie ha un aggancio. Cheeseburger Eddie? Sì, esatto, puoi avere anche un McFlurry. Buon appetito, ciccione. E pure l'amore di una bella femmina? Beh, dovrai abbassare i tuoi standard, sia dal lato bella che dal lato femmina. Ciao, baby. Senti, limitiamoci al Cheeseburger. Adesso li trovi orridi, ma fra otto mesi ti sembreranno Cameron Diaz. No, grazie. Passiamo al fatto più importante. Non devi lasciarti intimidire, né farti maltrattare. Perché se lo fai, alla fine diventi la puttanella di qualcuno. Non mi pare il caso, grazie del consiglio.